Sarà probabilmente il Consiglio di Amministrazione di Marche e Multiservizi di lunedì 24 luglio a dare indicazioni più precise e forse definitive sulla decisione di realizzare o meno la discarica di rifiuti speciali nella collina petrianese di Riceci. Ieri la telenovela ha avuto un'altra puntata accesa ma interlocutoria nel Consiglio Comunale di Urbino, dove l'amministratore delegato e il presidente di Marche Multiservizi Mauro Tibiroli e Andrea Pierotti hanno relazionato sul progetto da realizzare accolto dal dissenso dei manifestanti e della stessa politica urbinate. Un parere contrario che era già stato ratificato dal Consiglio Comunale di Urbino con buona pace della relazione di Tibiroli che anche ieri sera ha sottolineato la necessità di un impianto di smaltimento di rifiuti che rappresenta una criticità oggettiva per il territorio. Sottolineatura accompagnata dalle rassicurazioni su livelli di efficienza gestionale dell'impianto. Più combattuto l'intervento del presidente Pierotti, cartina tornasole di un Consiglio d'amministrazione di Marche Multiservizi spaccato sulla vicenda. La prossima settimana sarà presumibilmente quella decisiva con i soci di Marche Multiservizi che risponderanno delle decisioni che emergeranno da un CDA quanto mai atteso.